Sono felicissimo di far parte di questo nuovo progetto che si pone come obiettivo di portare il Monaco ai vertici del calcio europeo. Abbiamo ottimi giocatori, molto ambiziosi, con una gran voglia di vincere parecchio con questo club. L'idea è quella di mettere assieme un gruppo forte e compatto. Questo sicuramente ci porterà a tanti gol e vittorie molto importanti. Il nostro obiettivo è molto chiaro, vincere ogni competizione. Gli obiettivi per il Monaco sono gli stessi, però, di tutte le altre squadre di Ligan. Non sono sicuramente speciali. Ogni partita di qui in avanti dovrà essere una finale. A dire dove meritiamo di stare a fine stagione saranno i risultati. Non pensiamo solo ad un rivale. Siamo concentrati su rispondere alle sfide di ogni squadra di Ligan. Sono tutte pericolose.